Buongiorno, oggi vedremo la fine della Repubblica. Seguite le pagine 78 e 79 del Sussediario. Dopo le guerre di espansione si ripropose la situazione già creatasi tempo prima, i patrizi sempre più ricchi e i proplebei sempre meno. Quando i due tribuni, i fratelli Tiberio e Caio Gracco, passato è la storia come Gracchi, proposero una riforma a favore dei contadini, furono uccisi. Tra l'88 e il 79 a.C. ci fu una nuova guerra civile tra patrizia e plebei. Questo periodo vede il delinearsi di due figure, Caio Mario e Lucio Cornelio. Siete invitati a compilare questo schema con le proprietà di questi due soldati. Alla morte di Silla e dopo la sconfitta dei plebei, il potere passò nelle mani del triunvirato. Chi fosse interessato ad approfondire questi tre personaggi, può fare una mini ricerca. Nel 45 a.C. alla fine della guerra, Cesare vincitore si fece leggere Dittatore a vita, ponendo fine alla Repubblica. Cesare fece delle leggi che miravano a migliorare la condizione dei poveri, ottenendo la fiducia del popolo. Fece costruire strade, ponti, acquedotti. Venne ucciso il 15 marzo del 44 a.C. a causa della sua politica a favore della plebe. Ora siete invitati a leggere e compilare la scheda relativa a Giulio Cesare.